Poi che fine ha fatto? Abbiamo cercato il suo corpo. Poi ci hanno richiamati e l'hanno dichiarato disperso. Per chieda la caccia ai Ghost. I Fed l'hanno trovato per prima. Se possono cambiare uno come lui, possono farlo con chiunque. E un Ghost va sempre fino in fondo. Lui o noi, insomma. Esatto. A Caracas c'è un tizio che sa dove si nasconde. Victor Ramos. È uno scienziato dei Fed. Ed. Pochi possono dire di essere amici di Rorke. Ramos è tra questi. Per trovare Rorke... ...torneremo a Caracas, dove tutto è iniziato. ...in perfetto orario. Onora le maschere. Ecco il bersaglio. Sta atterrando. Confermare il D. Scarecrow, qui sei due. Trasmettiamo il feed video. Ricevuto, capo. Ricezione in corso. Puliamo il segnale. Non ci siamo. Cambiare a colazione. Bersaglio confermato. Procedere. Ricevuto, Scarecrow. Sei due, chiudo. Controllate cari e parcavute per l'estrazione. Il cavo, ragazzo. A caccia. Dio... Dove... Uno... ...ol... ... Cavo sicuro. Scendiamo. Nemici di sotto. Le luci all'interno ci copriranno. Uno al tavolo. Neutralizzare. Ok. A destra. Pensiamo agli altri due. Vai ragazzo. Sistemate. Via libera. Al piano di sotto. Altri di sotto. Non sparate. Ne vedo tre al tavolo da poker. Sinistra. Uno in cucina. Un altro in arrivo. A sinistra. Prima la cucina. Appena entra in cucina eliminiamo gli entrambi. Ti seguo. Attività al centro. Libero. Muoversi. Il centro di controllo è su questo piano. L'impianto elettrico è dietro. Forza. Collegati. Collegati. Mi sono. Ok. Pa. Sì, dice che va lasciar un po' con il piso di arriva. Ah, a lo mejor va a punto. Eh, no le comienzo. Finicione, escondite. Si non monta la partida, si haces trampas. Listo, me la niña. Eh, tal vez valla la romba de afuera. No spara. No pide accompagnarle, hay muchas jevas buenas por allá. Váyase antes, ¿quién se va a enterar? ¿Y si nos pillan? No nos pillarán, confía en mí. Ok, vámonos. Epa, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. Estás loco, está de patrulla ahora mismo. Ah, seguro que se encuentra una forma de liberarse de ella. ¿Qué? ¿Tú, amigo, no das más que problema? Sí, no tengo problema, pero sé cuándo toca divertirse. Confía en mí. Haz pesta que el pan, si no. Está claro que ahora divertirse. Voy a ir a cada uno. Si, agganciate. ¡Aganciate! C'è i cavi. Via le luci. Perfetto. Due, balcone a sinistra. Scendi e falli fuori. Abbattuti. Uno sotto di te. Muoviti sopra di lui, silenzio assoluto. Ok, fallo fuori. Ricorda, dobbiamo bloccare gli ascensori per non lasciare piedi in fuga. Io prendo quelli nella La Ovest. Ci vediamo al raccordo per tagliare i secondari. Con me. Falli fuori. Vediamo su un'infiltrazione. Necessito una nuova sorsa. Libero. Ne conto cinque più avanti. Falli fuori. A me me quedan dos mesi mas. Sta muerto, bloccare la salida, rapido! Vedo che Elias vi ha destrati bene. Destra libera. Esce rapporto. Principale visi attivati, secondari ancora attivi. Ricevuto. Cinque minuti. Non si vedi la luce. 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 Solo le dobbiamo sorprenderle. Spara alla tv. Sinistra. La cerveza si va a calentar. No, non si vedi la luce. Che coño sta passando? Por allà, por allà! Allà estan! Che vengo a medici! Non lo veo! Quanto ha? Che coño è questo? Che manda le esforzos! Prenda esa luce, ya! Por allà, por allà! Non lo veo! Cu- Coño è... Libero. Troppo spente. Di qua. Di qua. Esci, entriamo dall'angolo nord-est. Ok, sono quasi alla sala di controllo. Aiuta, esce. Io aggancio i cavi. Disattiva gli ascensori. Abbiamo compagnia. Ecco. Meglio con questo. Mi hanno trovati, guardate qui! Che cazzo! Sodò, un nemico, in frente! Viene panchiamo in questa posizione! Sodò, un nemico, in frente! Perdiamo tempo, molliamoci! Abbattuti! Dammi delle cariche, copro la fuga. Agganciarsi ai cavi. Agganciarsi ai cavi. Ecco lì! Non è un nemico, usato il gioco! Muovili, eh! Sobredito, lì! Sobredito, lì! Dobbiamo entrare, subito! E nemmeno sono morto! Dobbiamo arriva il movimento. Tossiamo arrivare al messaggio! Avanzare! Bohesi, Bohesi! Bohesi! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Ramos, non deve escapare! Avanzare! Avanzare, avanzare! Forza, dai! Forza, dai! Avanzare! Forza, dai! Guarda questa paracchimica e l'appoglio aereo! In posizione! Anche qui! Ok, in azione! Cazzo, qui non c'è! Esci! Ce l'ho! Sapeva del vostro arrivo! Dov'è Rork? Dove sta? Non lo so! Nessuno lo sa! Esci! Hai cinque secondi per dirci dov'è Rork! Quattro, tre, due... La risposta è là, in un file creptato! Bene, bene, bene! Ecco i morti viventi! Rork! Sapevo che mi avreste rintracciato! Volevi uccidere mio padre, bastardo! Ash! I figli di Elias Walker vi ha mandati al massacro! Dove sei, Rork? Non ha importanza! Non quanto il fatto che anni fa i Ghost mi hanno lasciato morire qui! E da oggi in poi, Elias avrà anche la vita dei suoi figli sulla coscienza! Via da qui! Scarecrow! Missione compromessa! Estrazione aerea dal piano cinquantadue! Perciò da sei due! C'è una squadra a nuovo punto di incontro! Proviamo una finestra prima che qui venga giù tutto! Davanti a noi! Ok! Saltiamo da qui! Alla finestra! Paracadute! Proviamo tutto! Aggrappati a qualcosa! Scarecrow! Scarecrow! Siamo in volo! Direzione Punto Echo! Ben fatto voi due! Ora leviamoci dalle palle. Grazie a tutti